Il sindaco Mimmo Gonzales non ha rinnovato l'incarico di dirigente alla pubblica istruzione a tempo determinato a Gaetano Padula, scaduto il 31 gennaio scorso. Potrebbe essere la prima delle decisioni del primo cittadino in riferimento alla comunicazione di qualche giorno fa con la quale aveva dichiarato che una volta ripristinato il servizio mensa sarebbero state stabilite con chiarezza le responsabilità per quanto accaduto dal 7 gennaio scorso per tutto il periodo di sospensione della refezione scolastica e di successivi disagi per scuole, genitori e lavoratori del servizio. Padula resta però funzionario dell'ufficio lavori pubblici nonché responsabile del settore pubblica istruzione e impianti sportivi. Sull'ex dirigente sarebbe quindi caduta la colpa del disservizio della mensa scolastica sospesa per tre settimane dopo il passaggio della ditta per il nuovo appalto, un problema scaturito a causa del bando di gara. Non è escluso che la decisione del primo cittadino sia una conseguenza di sollecitazioni politiche arrivate da rappresentanti della maggioranza che chiedevano provvedimenti nei confronti del responsabile degli errori commessi nella gestione dell'appalto relativo alla mensa scolastica. Padula non è l'unico dirigente non confermato all'interno del comune di Brindisi. Anche per l'architetto Valerio Costantino, dirigente dei settori patrimonio e casa, il mandato scaduto non è stato rinnovato, per lui non ci sono altri incarichi e dunque dovrà lasciare il comune di Brindisi.